Mi trovo in via Otranto a Taranto, periodicamente ritorno qui perché purtroppo le segnalazioni sono tante e ripetute ma l'amministrazione comunale non interviene mai, non è mai intervenuta. Guardate lo stato pietoso, pericolosissimo dell'asfalto, del manto stradale. Guardate qui, sembra, non lo so, un percorso di guerra, sembra che sia stato bombardato, pazzesco. Cioè io dico l'amministrazione comunale e mi rivolgo all'assessore Ciraci, dice Ciraci che c'è una scala di priorità negli interventi di rifacimento delle strade. Scusate, ma gli abitanti di via Otranto cosa sono? Figli di un dio minore? Sono i disgraziati, sono i reietti, sono i cittadini di Serie C? Guardate, ma è tutto, non è solo un pezzo. Guardate, prego l'operatore di dare proprio una panoramica per lungo, andando fino in fondo, via Otranto, via Principe, Amedeo e via Cesare Battisti. È tutto un percorso di guerra, un percorso di guerra. Ma la cosa diventa impressionante quando giriamo appena appena di qualche metro, questa piccola traversa proprio attaccata via Otranto, non so se è sempre via Otranto, ma in ogni caso, guardate qui, ditemi voi, cos'è questo? Questo è forse il pezzo di strada più disastrato di Taranto o comunque tra i più disastrati di Taranto. Un bombardamento, sembra che qui siano state svolte attività belliche, qualcosa di pazzesco, dovremmo arrivare fino all'altra traversa. Guardate, guardate, tutto così. Caro Ciracci, non è una priorità questa, ma cosa dobbiamo aspettare? Che la gente cada e si faccia male, come già accade oramai, non è una novità. Che le persone cadano non è più una novità. È una situazione di degrado assoluto, di abbandono. Cioè, questo deriva dal fatto che l'amministrazione comunale, il sindaco Melucci, l'assessore ai lavori pubblici, non girano la città, non conoscono la città, non hanno idea del degrado. Guardate, mi tocco la testa perché oltretutto ci sono anche condizioni igieniche, le mosche zanzare. Guardate qui poi il marciapiede. Cos'è un marciapiede? È questo? Ditemi, guardate, guardate. Questo è un marciapiede? Qui si cade. Cioè, un pezzo di marciapiede, un pezzo di asfalto, un pezzo di cemento. Cioè, ditemi voi, io non so più cosa dire. Questo è terzo mondo, terzo mondo. Melucci, tu hai ridotto tanto una città del terzo mondo perché fai e rifai le strade, via Levirginio, le altre. Ma questi, cosa sono? Hai fatto, l'amministrazione comunale ha fatto degli interventi, il rifacimento di strade che non necessitavano. Cioè, meritavano il rifacimento, ma non avevano la priorità assoluta che hanno certe strade come questa, come via Otranto. Pazzesco, guardate. Mai vista una cosa simile? Mai vista una cosa simile? Guardate. Cosa devo dire? E voi chiedete a questi cittadini di pagare le tasse, ma per avere quali servizi? Fatemi capire. Quali sono i servizi che la città rende agli abitanti di via Otranto e dintorni? I servizi quali sono? Quelli di cadere e di rompersi una gamba e di andare a finire in ospedale? Quella di stare nella sporcizia con le mosche che si attaccano alla testa, come sta succedendo a me? Ditemi voi. Questa non è una città del terzo mondo? Ma voi dovreste sparire politicamente, Melucci, dovreste sparire da Taranto. Dovreste vergognarvi per la vostra incapacità politico-amministrativa. Caro Ciraci, tu che ami tanto farti i selfie, i video selfie, vieni qua. Vieni con me a fare i video selfie qua. Vieni, vieni. Poi ascolta quello che ti dicono i cittadini. Vi fa troppo comodo stare seduti in poltrona? Muovete il culo dalla sedia. Muovete il culo dalla sedia. Io voglio sapere qual è la priorità delle strade che ha stabilito Ciraci. E come mai una strada del genere non compare? Come mai? Fatemi capire. Come mai non si interviene subito in una strada legge? Guardate, un percorso di guerra bombardata, neanche forse nei paesi in Medio Oriente ci sono dei bombardamenti simili. Neanche in Medio Oriente. Mi sa che la striscia di Gaza si è trasferita qui, probabilmente. Forse hanno sbagliato a bombardare, hanno bombardato via Otranto e dintorni. Al di là delle battute, perché peraltro non c'entrano nulla con un dramma grave qual è l'evento bellico. Io mi vergogno di questa amministrazione e insieme a me si vergognano i tarantini.